Come mai questa gallina viene asciugata con il phon? Probabilmente perché è caduta qui nel laghetto delle ocche in un modo o l'altro è caduta e si è bagnata era tutta fredolosa e bagnata e stava ferma che quasi sembrava che morisse ecco qua con il phon una bella asciugatina è una bagnata troppo mi pare che sia abbastanza migliore non vorremmo mai scaldarla troppo se no facciamo il phon ah è un sfido facciamo la mia prima e qui dopo è stata messa sotto le coperte per riposare e per prendere le forze essendo piccola e fragile e poi ci vediamo il video Grazie a tutti Grazie a tutti